La tempesta di merda La nostra missione non è ancora finita Si dice che durante la seconda guerra mondiale I nazisti rubarono ai francesi un'infinità di oro Gli abitanti del posto inondarono al villaggio per fermarli Ora è tutto in fondo al lago Che ne dite ragazzi? Facciamolo! Avete capito di cosa parliamo? Di recuperare più di 300 milioni di dollari in lingotti d'oro scomparsi da 50 anni Si tratta di una massiccia operazione non autorizzata Sono a 150 piedi di profondità E nel cuore del territorio nemico Possiamo fare qualcosa di straordinario per la gente di questo paese Cazzo sì A quanto pare dei nemici mercenari stanno cercando di uccidervi A noi piace il gioco duro Perfetto, anche a me Avete infranto tutte le regole Pursirò di scena con un botto Arrivano! Vai, vai, vai! Dovevo mettere delle mutande diverse Renegade, commando d'assalto Ho un carro armato davanti Io ne ho uno anche dietro Facciamoci una nuotata Dal 5 ottobre al cinema